HPE OneView, la composable infrastructure che concilia solidità e flessibilità. Le sollecitazioni del mercato stanno portando i clienti a richiedere un'infrastruttura che non sia statica, ma che sia in grado di garantire ampia flessibilità e che sia rispondente in tempi rapidi ai diversi momenti del business. Le aziende chiedono velocità e time to value per poter tradurre le idee in business, ma chiedono anche agility, declinabile in efficienza e flessibilità grazie all'automatizzazione dei processi sull'infrastruttura. Altro aspetto non da poco riguarda poi i costi operativi che devono diminuire a favore dell'innovazione. La tendenza è quella di andare verso un ITB modale, solido ma fluido, che si accorda perfettamente con il concetto di business delle idee, che si svincoli dall'ingessatura a cui oggi molte infrastrutture sono ancora costrette, consentendo di avere, nel medesimo tempo, l'implementazione dell'idea nel momento stesso in cui scaturisce. L'evoluzione dell'infrastruttura va sempre più verso modelli convergenti, che consentano la gestione di server, storage e architetture di rete. E la strategia di Hewlett Packard Enterprise si è mossa proprio nel corso degli anni da architetture tradizionali verso quelle convergenti, fino all'iperconvergenza. E il prossimo attuale step è proprio quello del Composable e Cloud. Con il modello convergente e ancora di più con quello Composable, la gestione è quindi automatizzata con aggiornamenti di software, driver e firmware, in linea con le modifiche necessarie. E il Data Center risponde in tempi rapidi alle esigenze di cambio di rotta repentini delle aziende che innovano, per stare al passo con il mercato sempre più orientato verso la idea economy, ossia tradurre idee e spunti di business in prodotti concreti. I vantaggi della Composable Infrastructure di HPE OneView per i clienti sono quindi evidenti, facilitando l'integrazione grazie all'apertura delle API, accelerandola a delivery delle applicazioni, con costi e sforzi operativi adeguati al bisogno e con un aumento generale di produttività per l'azienda. Per i partner, per contro, il vantaggio più evidente è un aumento della fidelizzazione dei clienti, con la valorizzazione delle proprie capacità progettuali e consulenziali. I Partner, Hewlett Packard Enterprise, mette a disposizione training specifici per qualificarsi come ExpertOne per la piattaforma OneView. Agli sviluppatori, invece, viene offerto il Software Development Kit di OneView, che, mettendo a loro disposizione le API, permette di ricostruire le proprie applicazioni e garantirne l'interoperabilità con Akpie OneView.